questo concerto. Stasera iniziamo con... loro sono già passati di qua, stasera saranno una formazione diversa, molto ridotta, perché l'idea è un po' quella di... a un certo punto sono anche diventati famosi, per quanto si possa diventare famosi nella musica alternativa, più underground, ma hanno calcato palchi molto importanti, ma Agnorli stanti anni fa, quando si sono conosciuti, suonavano così in mezzo alla strada, con due chitarre, quindi l'idea è un po' riproporre quell'atmosfera, e loro sono Luke Wieslocking e Roberto Lutti, un applauso, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti